bella ragazzi siamo qui che stiamo provando la macchina che ci è arrivata dalla geo agri la ratro bps adesso lo vediamo bene ha la regolazione orientabile e la regolazione del traslatore abbiamo fatto qualche regolazione in questo caso qui ci voleva un terzo punto col braccio un po' più lungo così dopo col braccio un po' più lungo attaccava di più l'aratro il prezzo dell'aratro di listino è 850 euro è un aratro che fa circa 35 centimetri poi dopo se uno ha il suo elevatore che lo butta giù al massimo e toglie il ruotino di dietro può fare anche un po' di più di profondità Manuel mettici una marcia più veloce così fai prima andare giù è un po' più lungo Noi stiamo usando una trattrice Lamborghini C340, una 40 cavalli, guardate che l'abbiamo restaurata qualche giorno fa, invernizzato il banco, il cofano e abbiamo rifatto il sedile. Grazie a tutti. Infatti, a vederla, questa trattrice Lamborghini C340 sembra nuova. Grazie a tutti. Noi, non avendo tanto posto nel nostro campo prove, non abbiamo modo di girare con lo sterzo e ci facciamo indietro da capo per il filare, per ricominciare il nuovo filare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non andare contro l'albero. Il mio fico. Grazie a tutti. 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 anche questa attività, diciamo, divulgativa e dopo ci piantiamo quest'inverno qualche alberello di pesco, di prugni, di albicocchi, di varie serie, così ne sciogliamo anche l'andamento stagionale. Fermo un attimo, fermo un attimo, vedete? Allora, di regolazioni, di regolazioni abbiamo la rotazione che si fa col sollevatore alto e dopo ruota l'angolo di inserimento della terra e poi abbiamo anche la traslazione che si fa sempre col sollevatore su, girando la leva dopo aver allentato i fermi, allentati i fermi si gira la leva e dopo praticamente si fa anche la aratura con la traslazione favorita nel caso che col trattore non si riesce ad arrivare a fare la riga, il settore giusto, con questo qui si può andare in qua circa 20-30 centimetri di qua o di là. all'inverno Allora 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 prove di nuove macchine è il suo divertimento l'importante è perdere quei 5 10 minuti per fare una mezza riga e fare le regolazioni del caso e dopo lavora molto bene allora ripetiamo l'aratro bps geoagricoltura uno dei più grandi distributori italiani di macchine agricole oltre agli arati c'è anche le trince erpici rotanti erpici a francisolle botti per irrorazione botti di serbo gli arati che stiamo provando adesso atomizzatori spandi concime lame da neve abbiamo di tutto guardate nel catalogo e dopo facciamo i prezzi buoni esempio questo aratro bps con tutte le le regolazioni del caso il prezzo di listino sono 850 euro prezzo scontato 700 euro e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visto anche questo bel filmato didattico, vi saluto tutti, se qui in zona Imola vi servono dei macchinari agricoli, mi contattate l'email mediaelettra.com, telefono 0542 600 108, guardate il catalogo G,